Contrastare le conseguenze negative dell'emergenza sanitaria e aiutare chi si trova in difficoltà. Con questi obiettivi il Comune di Cartoceto ha deciso di stanziare un contributo per le rette dei servizi scolastici. Ad annunciarlo è il Sindaco Enrico Rossi che ricorda anche un altro importante intervento, l'ampliamento del plesso del capoluogo. Lo abbiamo già fatto in realtà con una decisione che abbiamo assunto come giunta comunale sul finire del 2020 e abbiamo deciso che per i primi mesi del 2020, in modo particolare gennaio e febbraio, dove erano rimaste sospese le rette per i servizi scolastici principali, vale a dire la riflessione scolastica sia per tutte le scuole dell'infanzia che per la scuola primaria del capoluogo, il trasporto scolastico per tutte le scuole e anche le rette del centro per l'infanzia, cioè il nostro asilo nido comunale, sostanzialmente abbiamo optato per questo contributo, sostanzialmente quindi per stanziare queste risorse che azzerano completamente le rette dovute alle famiglie. Questo ovviamente per andare incontro, per supportare meglio le difficoltà delle famiglie direttamente conseguenti rispetto alle difficoltà economiche emerse a seguito della pandemia sanitaria. Il sindaco tra le novità per la scuola ci sono anche i lavori a Ragnetti? Sì, si tratta di un investimento molto importante di circa 150 mila euro che l'amministrazione ha deciso di fare sul plesso scolastico del capoluogo. In questo momento, nella prossima primavera, questo ampliamento consentirà di recuperare la palestra al suo utilizzo originario, perché al momento invece nel rispetto dei protocolli Covid è invece utilizzata quale allargamento del refettorio. Nel futuro prossimo l'auspicio è che i soggetti interessati e competenti possano utilizzare questo ampliamento per ampliare e diversificare l'offerta formativa di quel plesso.